Ciao ragazzi sono Starback45 bentornati a un epic fail appena iniziò a registrare bentornati alla seconda parte di Delver che eravamo qui alla nostra scala e mentre Camtasia mi stava elaborando il video ho avuto modo di andare a calzeggiare un attimo su youtube e controllare se non ci fossero altri video in italiano ecco ci lenta a te in italiano di questo giochino e infatti no in italiano non ne ho trovati punti o meno io poi ecco sono della cacca iniziamo malissimo aspettate sto soffrendo tantissimo ah questo qui ricura proprio funge come l'amelatore di minecraft eh che stava di sta pure andando ancora ehm che questo giochino in italia non se lo caga nessuno e che mi dispiace perchè è un bel gioco che consiglio di provare anche voi in parole povere perchè ora magari io non so commentare i miei commenti fanno schifo e li riconosco anch'io però mi piacciono i giochi che faccio cioè di cui parlo quindi se anche voi siete appassionati di giochi con grafica classica alla minecraft cazzo di cosa qui chiama questa è un consiglio cioè ve lo consiglio caldamente perchè diverte in più è un gioco d'avventura no no ragazzi qui devo fatto un mi devo riprendere un atto anche perchè tagliata a cazzo dicando lo schermo occidenti arcane proprio eh vabbè eh stop l'armatura qua non la si butta via si butta via uno due uno due affambe vabbè ragazzi dopo questa cosa non riesco più a commentare mi è partito via l'emozione eh lo stronzino là dietro ma non si vede vabbè almeno le parti essenziali si vedono no guarda eh lo stronzino viene qua guarda un'armatura che fa tre non mi interessa sarà una puntata che mi calverà tanto solo perchè mi son preso un colpo qui qui allora ci dove ok lo scheletrino ok allora qui è il mob ci dimenti a te vieni qui te mori c'è buono quello ha preso la trappola del trasporto quindi mi ok gli school e andiamo avanti ma fio che qua me lo do le trasporto ok allora ok anche se sono mini fatti con i pixel mi piglio comunque male perchè te li trovi davanti così dal nulla ti giri e ti trovi un cosino fatto male cioè nel senso sono fatti bene però nel senso ci pia male ok qui ci sta la scalina per passare alla falsa lucida si va e va a fanculo però non è la apple no come si fa ok apple quella lì vale milioni cioè nel senso miliardi di euro solo perchè apple sapete che è quella battuta allora visitiamo un pochino lo slime te devi morire subito boom oh 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 mo penso di te non aver come si dice ok esploriamo un attimo meglio oh 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 Grazie.